dal libro dottrina di salvezza volume 1 joseph yd smith capitolo 9 evoluzione l'origine della vita teoria della generazione spontanea la teoria che oggi prevale circa l'origine dell'uomo e che tutta la vita ha avuto origine da un comune e spontaneo elemento che l'uomo i pesci gli uccelli le bestie e perfino la vegetazione della terra sono sorti dallo stesso germe originale formatosi nel mare milioni di anni fa nel vago e distante passato questa teoria presuppone come fatto che la vita milioni di anni fa si originò spontaneamente questa è la base della teoria dell'evoluzione naturalmente sorge l'interrogativo se la generazione spontanea era possibile allora è possibile ora se non lo è perché la vita ha trapiantata da altre terre io vi dico che la vita non è cominciata spontaneamente su questa terra la sua origine non fu qui la vita esisteva molto prima della formazione del nostro sistema solare il fatto è che non è mai esistito un tempo in cui l'uomo fatto a immagine di dio maschio e femmina non si è esistito il signore rivelò a joseph smith la verità secondo cui anche l'uomo era in principio con dio il signore ci ha dato le informazioni relative alle sue creazioni e a come gli abbia creato molte terre poiché non c'è mai stato un principio non c'è mai stato un tempo in cui l'uomo non si è esistito in qualche parte dell'universo e quando venne il tempo di popolare questa terra il signore nostro dio tre pianto da qualche altra terra la vita che colà si trovava e i creò l'uomo a sua immagine se avessimo la possibilità di andare a visitare qualche altra creazione altri modelli dello spazio scopriremo che essi sono popolati di essere come noi poiché anche essi sono progeni di dio e della stessa razza dalla quale proveniamo noi forse essi sarebbero più esaltati non di meno anche essi sarebbero a immagine di dio come lo siamo noi adam non era un uomo delle caverne ma forse l'uomo più vicino alla perfezione nella forma e nei tratti al nostro padre e creatore falsità della teoria evolutiva questa idea che che tutto è cominciato da un piccolo elemento da un quid semplicissimo della superficie del mare e che gradatamente si è sviluppato finché da quella singola sorgente non sono scaturite tutte le forme di vita cioè le bestie dei campi uccelli dell'aria i pesci del mare e le piante sulla faccia della terra è un falso assoluto in questo non c'è alcuna verità perché dio ci ha dato la sua parola per mezzo della quale sappiamo la verità di queste cose e tutti coloro che sono guidati dallo spirito di dio possono capire per il tramite suo tale verità quanto è sciocco meschino e spregevole da parte di uomini professare di essere uomini di intelligenza e sostenere di possedere conoscenze scientifiche saggezza dichiarare che tutta la vita di questa terra è spontanea e confessare di non sapere niente della vita di altri mondi e al tempo stesso dichiarare che tutta la vita qui ha avuto origine dalla stessa unica e semplice sorgente dio è la sola sorgente di vita è vero che tutta la vita scaturisce dalla stessa sorgente ma questa non è l'alga né una medusa né un'altra cosa dio nostro padre è il creatore della vita il quale mise la vita su questa terra in varie forme ed anche su altri mondi egli proseguirà la sua opera su questa terra e su altri pianeti o mondi che prenderanno il posto di questa terra quando essa sarà esaltata e assurda alla gloria celeste egli continuerà a realizzare i suoi scopi popolando i mondi e concedendo ai suoi figli l'immortalità e la vita eterna ora io credo che questo sia un pensiero nobile penso che sia qualcosa che illumini la mente dei uomini e li sostenga esso la forzerà la nostra fede e ci darà il coraggio per continuare a fare bene perché ci dà la speranza di cose migliori cioè l'immortalità e la vita eterna come figli e figlie di dio questa falsa teoria che predomina in così lunga misura nel mondo è una teoria che degrada e non è nobilmente edificante l'evoluzione la regione non possono andare d'accordo Adamo non si evolse da una forma inferiore di vita credete che Adamo questo principe grande e importante l'arcangelo che era alla presenza di dio fosse una scimmia di sangue misto in altre parole credete che egli sia sviluppato gradatamente dal regno animale da qualche forma animale cosicché il signore poter mettere in lui uno spirito e chiamarlo uomo credete questo ci sono persone che lo credono ecco perché vi faccio questa domanda naturalmente penso che le persone che sostengono che l'uomo ha avuto origine da una forma spontanea di vita attraverso milioni di anni non credono in Adamo restamente non vedo come potrebbero e ora vi dimostrerò che non ci credono ci sono alcuni che cercano di farlo ma sono incoerenti assolutamente incoerenti perché una tale dottrina è così incompatibile così profondamente inaccettabile con le rivelazioni del signore che un uomo non può credere in entrambe non si può credere sia nel vangelo che nell'evoluzione io dico con la massima energia che non si può credere in questa teoria dell'origine dell'uomo e nello stesso tempo accettare il piano di salvezza concepito dal signore nostro dio se ne deve scegliere uno e respingere l'altro perché essi sono in diretto contrasto e fra di essi c'è un abisso così grande che non può essere colmato se credete nella dottrina dell'evoluzione allora dovete accettare il punto di vista secondo cui l'uomo si è evoluto attraverso innumerevoli anni dalle forme di vita più basse su attraverso varie fasi della vita animale fino a raggiungere la forma umana il primo uomo secondo queste ipotesi conosciuta come l'ipotesi dell'uomo delle caverne era una creatura completamente ignorante priva di qualsiasi intelligenza che la distinguesse dalle bestie dei campi la teoria dell'evoluzione nega Cristo quindi Adamo e con questo intendo il primo uomo non era capace di peccare e non poteva trasgredire e così facendo introdurre la morte nel mondo perché secondo questa teoria la morte era sempre esistita nel mondo se perciò non c'era stata la cauta di Adamo non c'era alcuna necessità di una espiazione quindi la venuta sulla terra del figlio di dio come salvatore del mondo è una contraddizione una cosa impossibile siete disposti a credere ad una cosa come questa credete che il primo uomo fosse un selvaggio che egli mancasse del potere dell'intelligenza che sia stato sulla continua strada della progressione tali sono gli insegnamenti di questi teorici tutti possono conoscere l'origine della vita sulla terra da dove è venuto l'uomo e qual è il suo destino trovo estremamente strano che i uomini che pur percorrendo una strada così lunga irta di situazioni difficili e dolorose rifiutino la verità che è proprio lì a loro portata per una risposta a queste domande perché non accettare la dichiarazione di uno che sa questa conoscenza è a disposizione di tutti la storia è sempre semplice la sua grandiosità è molto al di sopra della dottrina dell'evoluzione come i cieli sono al di sopra della profondità dell'inferno il dilemma del degli evoluzionisti teistici è vero che la scuola degli evoluzionisti è divisa in due categorie cioè i teisti e gli atei ma l'evoluzionismo teista fa parte di un'ipocrisia miscredente senza volontà che si scusa continuamente per i miracoli delle scritture e non crede nella missione divina di gesù cristo ripeto ancora che nessun uomo può coerentemente accettare la dottrina dell'evoluzione nello stesso tempo credere nella divina missione del nostro redentore i due pensieri sono completamente in antitesi non si possono armonizzare servire tutti e due padroni